Io sono molto felice di essere qua per questa regatta famosissima, pazzesca. Oggi abbiamo fatto un bel allenamento, spero che le previsioni saranno un po' meglio di quello che abbiamo adesso, però è una gara che è famosa anche per quello. Tante emozioni di vedere la prima volta che faccio una regatta qua nelle Mare del Sud Pacifico, dunque è molto interessante per me e poi con un solito equipaggio fantastico, una barca che è velocissima. Dunque spero di fare un risultato con Maserati e vedremo. Mi aspetto per adesso, le previsioni danno 35-45 nodi di bolina, dunque aspetto di essere un po' difficile con una barca che non è ottima per andare di bolina, però faremo il massimo e sicuramente sarà molto dura, ma dobbiamo essere pronti per quello.